Questi sono dei cuccioli di Pomerania, un maschietto bianco stupendo, pelosissimo, un altro maschietto crema e una femminuccia crema. Questi cuccioli da adulti arriveranno massimo dai 2,5 kg ai 3 kg. Per chi fosse interessato sono a Bergamo, via Torquato, Taramelli 2, sono completamente microcippati, sverminati e hanno i 4 vaccini del primo anno. Telefono 324 99 13 656.